ciao a tutti a tutti in questo video vi faccio vedere come decoro le mie wedding bag ho messo un adesivo al centro della busta e ho incollato con della colla vinilica trasparente una strisciolina di pizzo sul bordo al centro andrò ad applicare un fiocchettino rosa sono tutti i colori che riprendono comunque le bomboniere il fiocchetto non ve lo faccio vedere perché non mi ha registrato comunque un semplicissimo fiocchetto si vedrà poi anche per quanto riguarda le bomboniere un fiocco semplice lo chiudo con un nastrino bianco e poi al centro metto un colcino di colla e lo incollo al al centro in seguito poi andrò ad inserire tutte le varie cosine dopo aver realizzato la wedding bag vado a mettere dentro le varie cose quindi il libretto messa diciamo cerimonia iconetti riso le stelline filanti le bolle di sabone e i fazzolettini che ho decorato in questa maniera ho preso quelli piegati a metà ho fatto un fiocchetto e ci ho messo una mezza perla quindi vado a mettere ognuna di queste cose all'interno della wedding bag e poi la vado a chiudere con una piccola mullettina e questo è il risultato finale grazie a tutti